Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotes. Ho creato una nuova poesia dal titolo Moltiplicare la forza. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale youtube Savinotes. Considerazioni sulla poesia. Molte volte ci troviamo in difficoltà perché ci facciamo prendere dal panico oppure dall'enorme problema che ci provoca l'ostacolo che abbiamo di fronte. Però se lavoreremo ricavando in noi quell'energia tale da poter vincere questa forza otterremo una grandiosa riuscita. Se poi a questa forza uniamo la vivacità, la forza di vita e la tenacia e il coraggio per uscircene potremo ottenere il doppio di quello che cerchiamo perché a volte basta unire la costanza, l'attenzione, la perseveranza e un po' di esperienza e tante cose serviranno per moltiplicare la forza. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Moltiplicare la forza. Se a volte sarete in enorme difficoltà fermatevi e in voi raccoglierete tutta la vostra energia. Metteteci più energia e moltiplicate la forza per ricavare la riuscita di ogni sforzo con costanza. Moltiplicate la forza ed ogni cosa otterrete lavorando con costanza tanta vita realizzerete. Sarà una gioia per voi il poter così ottenere la bellezza dei risultati che di gioia vi faranno esultare. Grazie, condividete.